ciao ragazzi vedete questo mio labbro rondo sosas e i suoi amici erano almeno in 30 sono venuti mi hanno lanciato un sasso così in faccia e poi giustamente erano in troppi io non potevo fare niente rondo se io ti sto veramente sul cazzo e hai un problema con me facciamo un incontro uno contro uno e poi ne riparliamo fare queste cose da vigliacco arrivare con tutta la tua gente per imbruttirmi non fanno di te un uomo ok quindi quando crescerai vorrei avere un confronto uno a uno e mi ripeti le stesse parole che hai detto quando sei scappato per prendere i tuoi amici vedremo quanto sarai cresciuto fratello ma questo non finisce qui non ti preoccupare un po meglio così sembra che ho fatto il filler labbra nuove sasso sul labbro qualcuno ha detto caga sotto dai sono sempre bello grazie a dio c'è un po di ghiaccio una sfida uno contro uno niente armi sono testa a testa